Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in questi laghetti e pescheremo solo esclusivamente a Waukee. Quindi sicuramente ne sbaglieremo tantissimi ma speriamo anche di prenderne qualcuno. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e accendere la campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno. E adesso andiamo a prenderle o ne sbagliamo alcuni? Andiamo a vedere, let's go! Ok, iniziamo. Montatura fatta e vediamo se riusciamo a stannare qualcosa. Vermicello bianco, proviamo con questo per adesso e poi al massimo andiamo a cambiare. Mi ha visto saltare fuori, vediamo. La colorazione è cambiata. Abbiamo trovato questa qui, che è sul viola diciamo, però magari potrebbe andare bene. Mi riusciamo ad attirare qualche basso in più per andare a gradire. Mi auguro che c'è lì, poi un'altra volta. Magari va agredire l'uomo. No. Dai! Che c'era? Ma dai, non si può canarlo così. Ne abbiamo visti, ne abbiamo tre qui sotto, adesso proviamo a vedere se almeno uno mangia. e quant'erano le probabilità che io lanciavo qui e loro andavano là in fondo? Penso zero. Concento lo bianconato. No. Ho sbagliato anche questo. Dai! Non posso sbagliarne così tanti. Beh, guarda che sono piccolini. però... però... ... ... ... ... ... ... ... ... Conto me mi odiano quei bass qua A parte che è colpa mia se di sbaglio Quindi non posso farci niente Sì ragazzi Sì 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 bassettono è preso Vieni qua Vieni vieni Sì dentro L'abbiamo fatta Sì finalmente uno Finalmente l'abbiamo preso Dai bellino Ci sta È un bel bassettino E adesso come di consuetudine Rilasciamo E cerchiamone un altro Come on Come on Finalmente sono riusciti a prenderne uno E adesso vediamo se riusciamo a prendere questo qua piccolino Riproviamo di qua a vedere Se stavolta voglia di uscire Se stavolta voglia di uscire Preso Portiamo su Come on Another Piccolino Eccolo qua E un altro Boom Due Let's go Adesso andiamo giù a rilasciarlo Adesso andiamo giù a rilasciarlo Noi scendiamo di qua Senza cadere dentro Come on Come on Perché non abbiamo avuto più nessuno stacco Dalla parte opposta Entornati di qua Adesso riproviamo di qua Un'altra 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 no 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 ma dai allora prendiamo uno finalmente piccolino ma l'abbiamo preso almeno non so quanto tempo vabbè non riuscivo a capire se c'era o non c'era altro piccolino ecco qua piccolino e altro minibus ho preso ho messo la ria la gira da saltare ho preso un altro in lontananza stazza un po' più bella questa anche se comunque piccolino se vediamo se ne prendiamo un altro via come on altra mangiata altro regalo c'è un altro minuto minuto piccolino piccolino vieni qua vieni qua oppa un altro bassettino altro regalo l'ha mandato addirittura giù altro minibus altro minibus ok altra ruga piga non c'è tu pensavo che fosse un bassi invece è una tartaruga bellino questo mi sa facciamo qualche lancio qui e poi direi che la giornata si è anche conclusa ne abbiamo presi abbastanza piccolini purtroppo però dai tutto sommato poteva andare peggio la giornata si conclude qui purtroppo pensavamo di prendere qualche bel bass ma abbiamo avuto qualche attacco penso di qualche bass bello decente e invece purtroppo alla fine abbiamo fatto una strage completa di bassettini piccoli però dai almeno abbiamo scappottato e quindi la giornata top io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi al canale e accende la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti